ha detto Ludovica che sta mutata perchè mi ha tolto ai metto la mente ah ok ero un buono che stai giocando a fortuna e comunque non mi interessa ma prima nel messaggio della prima parola non si è finita che mi hai detto vita io ha bella tolta diglilo alla Ludovica diglilo ok io già diglilo alla Ludovica diglilo ah hai detto via eh diglilo alla Ludovica che ho tolto la musica ha detto che ha tolto la musica musica stop ok ok non mette aiii ma che cos'è che cos'è aia sono un'altra non 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 no 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 ma no Grazie. Dio che ho toccato la musica. Eccomi. Dio che ho toccato. Sì, ti sento, Gabriel. Non mi sento bene. Ma la pancia? No, l'occhio. Perché siccome me lo strofino, mi brucia. Mettiti la prep. Che ti passa. Come la prep nell'occhio? No, no, nei bordi dell'occhio. No, assolutamente no. Mi brucia tutto quanto e mi viene un'infezione. No, io devo andare a mangiare. Buon mangiare. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Che mi chiama dalla mattina alla sera, santo Dio. Maria De Filippi. C'è posto per te. Bravo. Ma dopo sto trovando delle armi fighissime. A me, ciao. Porca vaccona. Porca vaccona. Ora, mezzarete e fa i spettini. Ma perché? Ma... Non esiste. Perché vuoi una bella mente dell'altro posto? È bella pure questa. Che cosa? L'arma rosa. Che schifo. Anche tu hai trovato un'arma rosa. Ma fa cagare questa. No. È l'arma più forte del chioco. Non è vero? Sì, sì. Non è vero. Vieni qua da me. Chiudo i materiali. E anche un po' di armi. Perchè non è vero? Ora sfondo a uno struzzo. L'editorio? Fatto giù ne ho parlato con Fabio Z. Fabbro Z. Fabbro. Lo chiamo Fabbro io. Fabbro. Stavo giocando a Fortnite. Poi io mi sono andato a caricare a mezzanotte. L'ho avviato. Non giuro dovevo giocare. Mi aspetto qui. C'è il covid. Mi sta uccidendo. Torno indietro. Vabbè devo morire con una bomba. Però vabbè stavo andando a mangiare. Sabato che si fa? Un tipo di test. Un tipo di test. Gli infatti. Gli infatti. Gli infatti. Mi vengono. Piani. Materiali. Italiano. Geografia. Filosofia. Adesso. Poi ti do un'arma leggendaria. Porca vulcania. Porca vulcania. Vulcania. Mi brucia l'occhio. Dove sei? Ti sistemo l'occhio. Mi vieni qua. Qui. Un dopo di piccone e via. Ehi non fate scorreggere nella vigilia di Italia. Madonna. Non so prendere nemmeno una fommita che scappa. Qua. Ne hanno distrutto labbero. Sono sei vandali. Mi serve un bomba. Io ce l'ho. Mamma mia. Che stai faccio. Mi pare amore. Ehi. Che vuole fa questo? Porca vacca. Non puoi dire? 50. Broke. 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 C'è Broke. Qua c'è ora. Vediamola. Il droppolo. Dai droppolo. Ok. Sta cascando il droppolo. Senti che cosa mi sta succedendo. È in droppolo. Va bene. Niente. Sono morto. Ma perché? Ehm. Sì. Ehm. Sono cascato. Ehm. Sono cascato per aver riusciuto. OOOPBBYE. Sono cascato per aver riusciuto, ma non ho corso. dall'albero per prendere il gatto sono da tutti era babbo natale ci stavano ammigami dove sono che gli lancio due bombe sono qua sotto loro ehi bomb mamma mia io gli ho messo le bombe che sta studiando sto dicendo non ce n'è di povi ammazzo sa banana c'è la banana lì c'è un bordello qua non ci vince mai ciao a 21 e quelli sono a 30 lì in lì le sonate buo dia Madonna mio Ma non si può giocare E' ingiocabile questo covid Dvd, covid, dvd Se ti prendi un dvd Ti prendi il covid Dvd Che vetrino Che vuoi, che vuoi, aiuto Vodavica, ti do l'inventario mio Vai, tieni Pezzo di covid No, mi serve l'ossidiano, aiuto Il meglio di GTA sta diventando forte Un battaglio e dire due cose Oh, che problemi di famiglia c'hai tu Che mi spari da dietro Super covid Super covid Ammazziamoli tutti, tutti Ti ho salvato, Ludovica Ti stava per spacciare tutto Spondre il covid, non si scherza Oh, che vuoi No, la banana mi ha ammazzato No, la banana mi ha ammazzato Mamma mia Mamma mia Ma quanti spari Nel co-op E' una cosa Non ti preoccupare Era un dinosauro Covidi, covidi, covidi Non ce n'è Covidi, covidi Stasera è di covidi Ehi, tu Camperone No, non ce la facciamo a vincere Quelli che fanno a 83 Oh, proprio No Ssh, sh, sh, sh Sopio, sopio Oh, c'è una banana Bisogniamo la lobby Se ti prendi questo Cantiamo tutti insieme Oh, io Cosa facciamo Eh, facciamo coppia Tu lo stai comprando? O ti stai comprando tacche si No No Vediamo cosa c'è Cosa c'è Nella shop Bello Ecco è Mazzarello Che con le live Guarda la che c'è Poi Madonna 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 Che sono contenta Mi figlio dice Mamma Ma che sta succedendo Niente Madonna 3.2 3.4 4 4 Pagazzi C'erriamo 4 Madonna Scree shot Scree shot Come la dentro Che mergoglio Che mergoglio Che mergoglio